Ciao Betis.it, sono sempre piegato, adesso cosa sto ascoltando? Voi non la sentite ma c'è sempre una musica, a meno che non stia impazzendo del tutto e ce l'abbia nella testa, ma sento Superstition di Stevie Wonder, prima nella video recensione di Detroit di Katrin Bigelov c'era Psycho Killer dei Talking Nets. Vabbè, comunque c'è a palla Superstition di Stevie Wonder alla mia destra, alla vostra sinistra, però adesso parliamo della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, va bene? Sì, sono qui piegato per voi e soprattutto per Betis.it, se no Bernie così mi licenzia e mi schiaccia, ecco c'è tutto il potere di Bernie sopra la mia testa, però c'è anche una questione privata dei fratelli taviani davanti ai miei occhi. Poco fa l'ho visto e a caldo che vi devo dire, ho sentito freddo, nel senso che dopo la ragazza nella nebbia, i ragazzi nella nebbia, partigiani nella nebbia d'Italia, una nebbia bellissima. Mi piace tanto come hanno ripreso i fratelli italiani il paesaggio italiano di questo fenoglio molto moderno, quasi rock and roll, quasi il Bargues di Arancia Meccanica. Che bello il linguaggio di Fenoglio, sentire questa lingua, lui che amava molto l'inglese, sentire questa lingua italiana molto rock, ok? A partire dai soprannomi di questi ragazzacci partigiani, no? Allora Luca Marinelli è Milton, in omaggio a qualcuno, e in questo film, tratto da romanzo di Beppe Fenoglio, che è stato adattato anche abbastanza spesso, soprattutto per la televisione italiana, il Fenoglio che fu in concorso anche a Venezia anni fa, portato da Guido Chiesa 17 anni fa, i fratelli italiani vecchissimi prendono delle star giovani, Valentina Bellello, Renzo Richelmi e Luca Marinelli, e li portano dentro questo strano film, con delle cose non eccezionali, ma delle cose invece molto belle, dove Luca Marinelli è questo partigiano di nome Milton, chiaramente fenogliesco e doppio di Beppe Fenoglio, il quale studiò inglese all'università e partecipò dopo l'8 settembre del 1943 alla guerra di resistenza contro le forze nazifasciste nel nostro paese, e beh, questi partigiani stavano in montagna, in mezzo alla nebbia, però c'è anche la gelosia. C'è un ricordo, ma non è che quella donna che un pochino mi contendevo con il mio carissimo amico Giorgio, in realtà poi è andata con lui, allora Milton, Luca Marinelli è il protagonista del film, ha un po' di demoni nella testa e decide quasi di disertare dalla guerra di resistenza per capire che cosa succede nella sua vita amorosa, lui che non è mai riuscito bene a dire a quella donna quanto le voleva bene. Allora è un film diviso tra presente e passato, tra vita borghese, pacifica e guerra, e mitragliate, è bellissimo come i taviani filmino, bellissimo come i taviani riescano a filmare la guerra con anche una certa povertà di mezzi, è bellissimo anche l'uso del cast di ragazzini italiani. Marinelli a volte è super, a volte meno, il film è discontinuo, ma comunque è molto interessante, e secondo me è un buon modo di portare Fenoglio oggi nell'Italia del 2017. Mi è piaciuto tantissimo l'utilizzo di Andrea Di Maria di Casa Surace nel ruolo di un batterista fascista, e beh, d'altronde i taviani sono così pazzerelli che usarono Lucio Dalla, usarono Lucio Dalla come attore nei sovversivi del 1967, adesso, proprio tanti anni dopo, nel 2017, usano Andrea Di Maria di Casa Surace per forse il momento più bello di tutto il film, un batterista, un prigioniero fascista, amante della batteria jazz, un po' whiplash di Chazelle, che è andato un pochino fuori di testa. Ed è bello vedere un corpo di Casa Surace usato alla grande dai fratelli Taviani all'interno di un dramma della gelosia ambientato durante la guerra di resistenza. Ok? Una questione privata. I ragazzi nella nebbia, questi ragazzi nella nebbia, così vecchi, ma così anche giovani, così italiani, ma così anche rock and roll, mi hanno abbastanza convinto, diretti da due eterni ragazzi di nome Paolo e Vittorio Taviani. Ciao, Betteist! Ciao, Betteist!